Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via Nazionale Torrente, Mercogliano, Avellino. Continua il degrado nel rione Valle. Dopo aver documentato la discarica a cielo aperto in via Umberto Nobile, che da mesi, nonostante tanti appelli fatti alle autorità competenti, giace come se fosse un fiore all'occhiello, ci sono giunte segnalazioni presso un'altra area del rione che è Bersaio di Inciviltà. La zona è via Gaetano Liviero, una traversa di via Raffaella Versa, dove da mesi sono presenti diversi materiali inquinanti di categoria ingombrante. Inoltre, qualcuno ha pensato che le aiole sia in un deposto di rifiuti, considerando i diversi materiali scaricati nelle zone verdi, lattine di alluminio, cartacce, vecchi libri e addirittura anche un sacchetto della spazzatura. Il piniambiente da tempo ha indicato la procedura per il corretto smaltimento dei rifiuti, ma siccome non c'è più sordo di colui che non vuol sentire, sarebbe opportuno intensificare i controlli nelle zone con queste problematiche e punire i trasgressori con molte salate, affinché abbandonino la brutta abitudine di disperdere i rifiuti nell'ambiente.